Marco, siamo in una delle sale più grandi del Metropolitan Markets Center, Engel & Folkers, che succede qui in questo momento? Dunque, questa è una delle sale operative dove i nostri agenti hanno tutto lo spazio e la tecnologia per poter svolgere la loro attività nel modo migliore. È una sala molto bella, molto affrescata, abbiamo assolutamente deciso di lasciare gli spazi più belli ai nostri operatori per creargli anche un ambiente ottimale da un punto di vista qualitativo. Ecco, parlando di lavoro, so che voi periodicamente organizzate degli eventi di selezione per venire a lavorare in questa fantastica location. Cosa puoi dirci, Merito? Il prossimo evento sarà il 15 di giugno, come ti dicevo noi ne facciamo uno ogni mese, ma il prossimo sarà quello del 15 di giugno alle 18.30 presso la nostra sede. Ricordo tutti l'indirizzo che è Corso Vittorio Emanuele al 284, alle spalle di Piazza Navona, dove siamo lieti di ospitare persone sia con esperienza nel settore immobiliare, ma anche persone che non hanno esperienza nel settore immobiliare e che vogliono avviare la loro carriera, la loro professione in questo settore. Come si svilupperà questo evento? Cosa succede? Arrivano qui, saranno accolti, hanno un largo sorriso e poi? Assolutamente sì, si svolge giù nella nostra lounge, l'obiettivo è quello di far conoscere l'azienda e il modello di lavoro, le opportunità che un singolo operatore può cogliere nel mondo immobiliare e ovviamente con Engelfelkers, dopo questa presentazione che dura circa tre quarti d'ora. Che farei tu? Assolutamente sì, faremo un giro nel nostro Metropolitan per mostrarvi la bellezza di questo palazzo. E riscatta la vendita. Sicuramente è molto emozionante questo palazzo, le sale sono tutte molto belle, affrescate e poi ci saluteremo con un aperitivo insieme per ringraziarli della partecipazione. Magari all'aperitivo vengo anch'io. Ti aspetta allora, ci vediamo il 15 di giugno alle 18.30, assolutamente, grazie mille. Grazie a te Mario. Grazie.